l'orchidea che voglio presentarvi oggi è la colmanara andrea adesso questa qui sta iniziando a fiorire vedete fa un casino di fiori piuttosto sul rosso così che durano tantissimo è veramente una che dura tanto 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 fiorita e dovete immaginarvela tutta fiorita ne fa veramente un sacco è una colmanara cioè un ibrido generalmente gli ibridi complessi le colmanara in particolare sono ibrido odontoglossum, uncidium e miltonia odontoglossum per miltonia fa odontonia odontoglossum per uncidium fa odontocidium odontocidium per odontonia un casino allora si chiama quando diventa un nome troppo complicato un nome con una desinenza in ara dedicato a un grande personaggio dell'orchidea in questo caso colman per esempio uno degli ibridi più famosi è la potinara che è un ibrido tra le catreia brassavola e sopra leia catreia e sopronitis e potinara è dedicato a felix poten che era un grande personaggio francese un grande commerciante francese che era anche un grande appassionato di orchidee e gli hanno indicato questo nome lui quando trovate questi nomi qui colmanara burrageara, visonara, biallara così sono tutti ibridi complessi con la desinenza in ara appunto dedicati ad un grande personaggio dell'orchidea in questo caso la colmanara ci sono tante colmanara questa è la andrea poi c'è la masai la ce n'è un casino la painter ce n'è veramente tante tante la samurai sono piante che rispetto alle polenopsie vogliono più luce un pochettino meno caldo di notte d'inverno e anziché proprio asciugare completamente vanno bagnati prima cioè non devono mai asciugare completamente prima che diventa quando è quasi quasi leggera si bagna se le tenete così con un po' più luce del fenopsie un pochettino meno caldo vanno benissimo sono rifiorenti cioè ogni nuovo bulbo porta i rami da fiore quando è una pianta grande ha sempre qualche bulbo nuovo che viene fuori possono pulire qualsiasi periodo dell'anno vedete questa è la colmanara painter white lip e quella gialla maculata di nero ci sono tante colmanara questa è l'andrea è una che è molto caratteristica bel bella per il colore e anche soprattutto per la durata che la durata veramente notevole le comporte da quando il grande gruppo di orchidee che si chiamano comunemente cambria in realtà la cambria è un libro che è stato creato quasi cento anni fa da charles ward era così bello che da allora tutti gli eviti d'ontoglossi li chiamano cambia ma però la cambia era solo quella la però commercialmente sono conosciuti tutti come cambia però questa è la colmanara andrea ok a domani